... Augurando a voi tutti un buon divertimento, iniziamo lo spettacolo con una brava verticalista. In pista, Deborah! Non è lei Deborah, eh? Deborah, verticalista! Grazie a tutti! Inizia la propria trazione con una perfetta verticale, verticale ad un solo braccio. Il compito di aprire lo spettacolo questo pomeriggio è toccato a me, ma adesso andiamo avanti. Senza di lui però... Ehi là! Ciao! Buonasera! Ciao! Ciao! E lui è il solito disturbatore. Fagiolino? Fagiolino? Buonasera! Buonasera! Come va? Ehi! Tutto bene però tu li disturbi non puoi stare. E' qua! E qua! E là! E sarei... E sarei... E sarei Esercizio di riscaldamento per pagiolino. Bene, massimo. Bene, ma come siamo? I rulli sono tre. Bene, massimo. 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 Bene. Bene, massimo. Bene. Bene, massimo. Bene. Bene. Su alla vetta, ma non è finita, dovrà girare quattro cerchi alle braccia. Bravo, e torniamo al punto di partenza. Mini Giancana sul monociclo gigante. E attenzione ora! Venavare addirittura con le mani! Il clown dalle mille risorse! E adesso... Addio beautiful! Ma guarda addio beautiful, facci vedere ad andare in bicicletta senza sella! Il re delle biciclette, Pagiolino! Bravo Pagolino! Questa è la virgoletina! Pozzuotri, hai, incontri, c'è lì! C'è la virgoletina che si stai con la quinta, c'è la tappa? Questa è 추 marginale! Tiama! Grazie.